Miss Carnevale Pietrasanta 2020 è Adriana Tutuiano della Contrada alla Corte. A 22 anni, generosa e testarda, così si definisce, ama ai tordelli la musica pop e sogna di sfondare nel mondo della moda. Adriana ha sbaragliato la concorrenza e ha consegnato per la prima volta alla sua Contrada dai colori giallo-verde lo scettro della più bella del reame. La notte delle Miss al Teatro Naturale della Rocca sullo sfondo del Duomo di Pietrasanta, condotta dalla brava Claudia Liperto, è stato un successo di pubblico, spettacolo, divertimento e anche simpatia. 12 le Miss in gara, in rappresentanza delle Contrade locali, che si sono sfidate a colpi di bellezza in passarella, sfilando in costume, in abito casual, in abito da sera e in costume di carnevale. Ma per la giuria presieduta da Ezio Marcucci non ci sono stati dubbi, Adriana è la più bella. Al secondo posto si sono classificate Elena Casali della Contrada Marina, 20 anni, e Gaia Graziani della Brancagliana, 24 anni. A premiare la bella missa è stato il sindaco Giovannetti. Al suo fianco le maschere storiche, sprocco e scalpellina, e l'assessore alle tradizioni popolari, Cosci. Le Contrade, ha detto il primo cittadino, sono il vero legame con la nostra storia, la nostra tradizione, con la città e con le sue frazioni. Ringrazio, ha aggiunto, tutti coloro, e sono tanti, che si spendono ogni giorno, sottraendo tempo anche alle famiglie e agli affetti, per alimentare questo spirito che rende la nostra comunità autentica e genuina. Bravissima Anna Tognetti, missoscente nelle inedite vesti di conduttrice a fianco di Claudia Liperto. Bello il manifesto ufficiale del Carnevale, edizione 2020, firmato da Pablo Acciugarri, che conferisce un tocco spiccatamente artistico alla tradizione. Ufficializzato anche il calendario delle manifestazioni, con la festa della canzonetta, 22, 23, 24 e 25 gennaio, al Comunale. I tre corsi mascherati, 9, 16 e 23 febbraio, e il torneo di calcio, dal 20 maggio al 25 giugno. L'intera serata delle lezioni di Miss Carnevale Pietrasanta 2020, andrà in onda domenica 8 settembre alle 22, sulla nostra emittente. Grazie a tutti.